Ciao, sono Pietro Parker, lo Spider-Man, italiano in questo multiverso. Ha! Gli ho spiegato come fare il fluido delle mie ragnatele, ma giustamente adesso volete sapere come fare lo spara ragnatele. Cioè, guardala che figata, cioè, guardate come esce. Comunque adesso ve lo spiego. Beh, come avete visto, c'è un serbatoio, dovete procurarvelo da una boccetta come questa. Vedete il liquido? È il fluido che ho preparato nello scorso video, con le ragnatele, eccetera. Poi questa boccetta dovete fissarvela al bolso, e io uso il mio braccialetto, ma potete usare quello che volete, l'importante è che sia così. Poi bucate il tappo con un ago, io l'ho già fatto, ma ve lo rimostro così. Assicuratevi che anche il vostro tappo faccia questo scatto perché ora c'è la parte figa. Prendete un elastico e legatelo al tappo. E ogni volta che tirerete l'indice, la ragnatela uscirà. E voi vi chiederete, ma perché adesso non è uscita? Perché è una reazione chimica, dovrete agitarlo per farla avverire. Si creerà pressione e potrete sparare. Ha! Visto? L'ho preso al volo. È affascinante, ma ci sono ragnatele appiccicose ovunque. Guardate, adesso sparo al telefono da lontano. Ha! Per qualsiasi domanda chiedi nei commenti. Bella!